Ci si lavora da tanto anche se fin qui forse è stato un generico chiacchiericcio non sempre produttivo. Qualcosa però sembra stia cambiando. L'abruzzo turistico è sempre più conosciuto. Quale che sia la causa, magari la scelta di farne una regione dalla superficie verde e tutelata come poche in Europa, oppure la coraggiosa ridestinazione d'uso del tracciato della costa dei Trabocchi, o forse quella mania che ci prende un po' tutti di scoprire per le nuove e costruirci vacanze a nostra misura tramite il web. Fatto sta che le opportunità per promuovere questa regione sono sempre di più. Tornei sportivi o di scacchi, grandi concerti o eventi di nicchia che siano, una cosa è certa. Il mondo comincia ad accorgersi che l'abruzzo c'è e anche che la riviera adriatica è competitiva. Prendiamo per esempio la zona dei grandi alberghi di Montesilvano. Oggi ospita l'universo del pedale con il top di gamma rappresentato dal Giro d'Italia, ma domani sarà già tempo di scacchi e a che livelli, anche mondiali, di pallamano e di famiglie. Devo dire che l'evento del Giro d'Italia rappresenta una vetrina importante per l'Abruzzo e poi questa vetrina così importante perché è più giorni di permanenza. Non è la prima volta che il Giro si ferma a Montesilvano. I team, la parte organizzativa, sceglie spesso Montesilvano per la questione anche di logistica, di spazi e di strutture. Devo dire che c'è stata molta sinergia tra gli operatori del settore di tutta la costa adriatica, tutta la costa abruzzese e questo è il nostro punto di forza. Quindi l'accoglienza dei team è un'accoglienza particolare perché non ha bisogno di spazi tecnici adeguati per poter sistemare i vari mezzi, i vari track, i vari punti di rifornimento per quanto riguarda ad esempio anche l'aspetto idrico dell'acqua per il lavaggio delle bici e quant'altro. Ma anche la parte ristorazione perché anche i team hanno delle diete particolari a cui vengono colivati insieme ai cuochi che spesso i team si portano. Quindi c'è tutto un servizio ad hoc fatto per le squadre cicliste che hanno bisogno di esigenze particolari. Gli eventi sportivi rappresentano un volano importante per la conoscenza del territorio. Non è solo questo che ospitiamo in questa zona, proprio a seguire il Giro d'Italia, appena il Giro d'Italia sarà terminato il 7 stesso, domenica stessa, Montesilvano ospiterà ad esempio il trofeo scolastico Scacchi Scuola, il TSS, che è un evento nazionale. Sono previste circa 5.000 presenze a Montesilvano nei giorni, diciamo dalla domenica al mercoledì, ma non solo questo. Poi a seguire la settimana prossima c'è un evento importante di palla a mano, di handball, tanti eventi sportivi che vanno a far partire in anticipo la stagione estiva, questo è il nostro punto di arrivo, diciamo noi dobbiamo allungare la stagionalità e fare in modo che la stagione possa partire e possa allungarsi il più possibile. Sarà secondo me una buona stagione, queste sono le prospettive, sono molto buone, diciamo c'è molta richiesta anche del prodotto vacanza Abruzzo, del mare Abruzzo sarà una buona stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.